Ragazzi oggi con i nostri amici di Lidl prepariamo un tramezzino veneziano da 10 lode, iniziamo subito. Tramezzini veneziani ragazzi, ce ne sono un'infinità, tantissimi ingredienti di qualità messi insieme tra due fette di pane morbidissime. Come li facciamo oggi? Semplice con mortadella, salsa tartara e carciofini sott'olio a spicchi di Lidl. Prima cosa bisogna preparare la salsa tartara ragazzi, due belle cucchiaiate di maio qua, mettiamo da parte e trituriamo le nostre verdurine, quindi sott'aceti classici, cipolline, citriolini, questi sono dei capperi di salati che abbiamo pulito dal sal in eccesso. Senape in grani, mischiamo bene tutto, la nostra salsa tartara è pronta, se vuole dare uno sprint un pochino più accentuato per far sentire l'acido potete aggiungere un pochino di aceto, ma non siete obbligati a farlo. Trituriamo le verdure. Ragazzi ci sono mille misure triangolari, rettangolari, oggi vi taglierò rettangolari. Dicono che quando è rettangolare siamo in Piemonte a Torino, mentre in Veneto li trovate anche di forme triangolari. Comunque oggi andiamo nel rettangolare. Quindi, hopla. Procedo all'assaggio ragazzi. Quanto ci abbiamo messo? 3 minuti. Ingredienti buoni, di qualità, provate a rifarlo a casa perché è davvero una bomba. Alla prossima, ciao! Grazie.